grande novità lego games costruisci ramses piramid e gioca con i tuoi amici costruisci il dado e scala la piramide ma fai attenzione alle mummie maledette chi arriverà in cima per primo farà suo il tesoro ramses piramid e per i più creativi il nuovo lego games creationary scatena la tua fantasia costruisci e indovina vieni a scoprire tutte le novità lego games grazie